Fervono i preparativi della 75esima edizione della Sagra del Mandorle in Fiore, che ritorna ad Agrigento dopo quattro anni di stop, dal 5 al 12 marzo 2023. Nata nel 1938 a Noto per celebrare il mito di Proserpina e poi trasferita ad Agrigento nel 1953, la Sagra del Mandorle in Fiore è diventata uno degli eventi più importanti della primavera siciliana. Ogni anno turisti da ogni parte del mondo visitano la città per ammirare la bellezza dei Mandorle in Fiore e partecipare alle attività che si svolgono durante la manifestazione. Quest'anno i treni storici da Palermo ad Agrigento e sulla Ferrovia dei Templi tra Agrigento e Porta Empedocle arricchiranno l'esperienza dei visitatori. L'evento è organizzato dal comune di Agrigento in collaborazione con il Parco archeologico e il distretto turistico della Valle dei Templi, la Fondazione FS Italiana e il sostegno del Ministero del Turismo e della Regione Siciliana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti